in questo video tratterò un argomento molto interessante per molti che me l'hanno richiesto ovvero la composizione di un pezzo natalizio e però per farlo ho deciso di pormi qualche paletto qualche regola in questo caso riuscire a comporre un pezzo con il semplice e unico utilizzo di una chitarra classica un solo strumento quindi eviterò l'utilizzo di campanellini suoni di slitte che solcano le nevi e altre caratteristiche che danno la certezza di essere davanti a un pezzo natalizio e soprattutto anche eviterò la creazione di un testo perché dal testo si può capire anche in maniera abbastanza immediata l'argomento che si vuole mettere in musica e baserò soltanto su quella che è la pura e netta composizione con chitarra classica i motivi che mi spingono a fare questo non è dire beh con gli effetti sonori cori angelici e tante altre cose ci riescono tutti a far sembrare natalizio un pezzo ma un po più diciamo l'idea di riuscire a fare molto con poco perciò addentriamoci nei fondamenti che rendono un pezzo natalizio ma prima voglio fare una semplicissima considerazione ovvero la musica natalizia non è un genere a sé stante ben definito mi spiego meglio esistono un sacco di sottogeneri della musica natalizia oppure sfumature di altri generi che vengono portate allo stremo fino a sembrare musica natalizia possiamo prendere dei pezzi gospel come dei pezzi pop anche molta musica classica e notare che ha delle caratteristiche prettamente natalizie noi quando sentiamo la musica subito all'istante identifichiamo quel pezzo un po forse perché è l'abitudine di sentirli di sentire questi pezzi durante quei periodi natalizi associamo questa musica direttamente a natale e realmente non è una cosa che dipende da il genere musicale in sé cioè il fatto che un pezzo sia musica popolare gospel classica pop rock'n'roll e chi più ne ha ne metta definire pochi generi per poter fare musica natalizia sapete che non ha senso ci sono anche molti gruppi ad esempio che fanno power metal che hanno creato delle versioni proprio power metal di canzoni classiche del natale devo dire che rendono benissimo io adoro questo disco se qualcuno ha modo di sentirlo io lo consiglio vivamente è molto carico energico ma allo stesso tempo ha proprio un sapore un suono bello invernale natalizio quindi entriamo adesso nel vivo di quello che vuol dire creare una melodia natalizia rimanendo comunque coerenti a un genere abbastanza moderno analizzando ciò che per noi può essere natale sicuramente abbiamo la gioia e quindi non ci faremo mancare alcuni accordi maggiori ma anche quel sentimento almeno per chi ci crede per chi è cristiano del mistero no la nascita di cristo che è il vero protagonista di questa festa e senza dilungarci diciamo che nella musica natalizia c'è sempre un sottofondo leggermente malinconico quindi dato da l'utilizzo di almeno un accordo minore durante i nostri giri armonici e che comunque si contrappone a un insieme di accordi prevalentemente maggiori alle volte vengono sfruttate anche molto le settime gli accordi di settima e questo rende i pezzi oltre che comunque gioiosi anche carichi di una sfera diciamo di mistero e questa cosa va a potenziare molto un effetto come ho già detto leggermente malinconico misterioso ma che poi comunque si risolve si definisce grazie a un insieme formato prevalentemente da accordi maggiori una cosa che si nota molto spesso è certi salti repentini da un registro molto grave quindi maestoso potente ma anche dolce a un registro più brillante e tintirinnante una sorta di campanellio l'intervallo che c'è in questi salti è quasi sempre un intervallo di un'ottava e non è non vuole essere una cosa che perturbi l'ascoltatore ma deve essere più armonico possibile e non c'è nulla di più armonico possibile di un suono che si ripeta un insuono con il suono precedente o addirittura comunque un suono che viene ripetuto ma un'ottava più alta un'ottava più grave in questo caso come ho appena detto partiamo da un suono più grave per poi fare un salto all'ottava successiva quindi un'ottava più acuta o addirittura anche andando due ottave più in atto nel registro del nostro strumento e questa cosa abbastanza diciamo repentina ma non brusca non deve essere un pugno in un occhio insomma però deve essere allo stesso tempo tintirinnante è abbastanza allegro giocoso come salto possiamo farlo anche con determinati fraseggi ripetiamo un fraseggio no più alto di un'ottava rispetto al fraseggio precedente apposta per diciamo rafforzare quel sentimento giocoso del primo fraseggio però diciamo sul registro molto più acuto e quindi che ricorda un campanellino natalizio classico di questi brani oltre ai salti di un'ottava possiamo anche creare delle accordi o comunque dei arpeggi che sfruttano molto i salti di decima la decima può essere maggiore quindi un po più gioiosa oppure minore un po più triste un po più malinconica nel pezzo che ho preparato che potrete sentire alla fine di questo video ho usato entrambi i tipi di decima ma sono consigliate le decime maggiori quindi facendo di un esempio concreto e immediato abbiamo la decima di di do semplice maggiore che è mi simultaneamente in questo modo ci possiamo giocare l'accompagnamento del mi sarebbe un do diciamo che arricchisce molto di più il nostro pezzo è un gioco che possiamo fare con delle decime mescolando delle decime maggiori e delle decime minori può essere questo qua lo suonato a caso ma già così ho usato addirittura tre decime minori con soltanto la decima maggiore che era quella di do soltanto facendo una cosa così semplice avete già sentito un certo gusto invernale non per forza natalizio ovviamente essendo un genere molto particolare non si parla di un classico pezzo pop commerciale ci sono anche delle eccezioni nelle quali usiamo delle scale pentatoniche blues e così via dicendo per comporre anche a seconda del tocco che vogliamo dare se vogliamo rendere un pezzo un po più rock and roll oppure diciamo gospel pop popolare abbiamo diverse scelte non facciamoci mancare nulla abbiamo veramente tante cose che possiamo fare investite secondo le vostre conoscenze musicali non fatevi mancare dei cromatismi perché comunque alcune alterazioni in questo genere piacciono molto e danno veramente un certo tatto molto molto caratteristico ai nostri pezzi e lo potete notare un ulteriore consiglio che vi do oltre a un utilizzo massivo insomma prevalente di accordi maggiori con l'utilizzo di settime e anche cercare di rendere i frasesi musicali i piccoli assolini musicali che potete inserire nei accompagnamenti prevalentemente ascendenti quindi che tendono ad andare sempre di più verso il registro acuto e poi ovviamente prima o poi dovrete anche scendere ma cercate di fare i frasesi prevalentemente andando verso il registro acuto e gioioso e cercando di sfruttare alcuni suoni nascosti del nostro strumento potete tranquillamente giocare con gli armonici non fatevi mancare qualche abbellimento di questo tipo il tempo che potete utilizzare per fare un pezzo del genere può essere anche un tempo rapidissimo molto veloce andante però io consiglio prevalentemente di usare un tempo abbastanza medio lento io sono stato sotto i 115 bpm e potrete sentirlo tra poco nel pezzo e le ritmi che possibilmente cercate di mantenerle abbastanza serene ma che si alternino a dei momenti un po' più giocosi e rimbalzanti in modo che il pezzo sia ok sereno ma che non addormenti l'ascoltatore abbia anche dei momenti abbastanza giocosi, allegri e che risolvano magari quelle piccole parti nostalgiche date dall'affiorare di qualche accordo o di qualche intervallo minore in una prevalenza maggiore e più allegra vi lascio all'ascolto del pezzo che ho provato a creare con il suo e unico utilizzo della chitarra classica queste regoline le potete utilizzare anche con altri strumenti ovviamente con tutti gli strumenti cromatici di questo mondo poi sbizzarritevi come volete e non c'è mai limite a nulla vi lascio all'ascolto musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E per questo video è tutto, spero che sia stato abbastanza interessante. Se volete contribuire a arricchire quello che è stato detto potete farlo anche nei commenti, se avete dei dubbi chiedete pure. Vi invito caldamente a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti e ci vediamo spero alla prossima. Ciao ragazzi!